guarda come un accessorio stravolge completamente il viso amiche ed amici ciao a tutti ben ritrovati su momis io sono simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima fascia per capelli una delle vostre richieste oggi è stata accolta ci tengo a precisare che non è farina del musacco ho visto questo progetto su pinterest monocolore però io l'ho voluto personalizzare utilizzando ben due colorazioni per mettere in risalto ancora di più questo effetto tridimensionale il progetto non è affatto difficile anzi super facile e veloce alla portata delle principianti prendete qualche avanzo qualche gomitolo perché considerate che ho utilizzato pochissimo filato 85 grammi all'incirca mettiamo 45 grammi per colore ecco ho utilizzato del cotone ho fatto una versione estiva però in base alla stagione che stiamo vivendo può essere anche realizzata in lana in acrilico insomma per la stagione invernale ho lavorato questo filato con l'uncinetto 3,5 questo era tutto vi riporto direttamente al tutorial di oggi mi raccomando ve lo ricordo sempre iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e seguitemi anche sui social perché sono molto attiva a questo punto sigla faccio un cappio e avvio 102 catenelle che corrispondono nel mio caso a 52 cm ma potete spingervi anche a 57 cm perché poi vedrete che la lavorazione verrà tra virgolette intracciata e quindi un po' di centimetri li perdiamo 10 11 12 13 101 102 a partire dalla seconda catenella vado a sostituire il primo mezzo punto con i due punti bassi continuo a mezzo punto sulle catenelle successive a fine riga mi ritroverò 101 punti 3 4 5 6 7 100 e 101 primissima riga terminata continuiamo per la seconda continuiamo sempre a mezzo punto però lavoriamo in costa dietro per cui ci inseriamo direttamente nella metà catenella e andiamo a sostituire il primo mezzo punto con i due punti bassi prendo il filo sempre in costa lavoro il secondo mezzo punto terzo mezzo punto e così via per questa seconda riga e per altre due terminate le quattro righe procedo per la quinta dove andrò a lavorare 18 mezzi punti il primo lo sostituisco sempre dai due punti bassi lavoro anche qui in costa 1 1 2 3 17 punto diciottesimo ed ultimo punto adesso vado a realizzare 5 catenelle 3 3 4 5 salto i cinque punti al di sotto e nel stesso punto vado a lavorare il primo mezzo punto di 18 sempre in costa dietro quindi 1 2 3 3 e diciottesimo mezzo punto ripetiamo le 5 catenelle 3 4 5 saltiamo 1 2 3 4 5 a partire dal sesto punto sempre in costa ripetiamo la sequenza dei 18 mezzi punti e continuiamo così fino a terminare la riga dopo aver fatto l'ultimo archetto di 5 catenelle ci rimarranno gli ultimi 9 punti lavoreremo un mezzo punto negli ultimi 9 nono mezzo punto 4 4 5 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 11 12 11 12 12 12 13 14 15 15 17 15 15 15 16 15 15 16 abbiamo le 5 catenelle andremo a lavorare un mezzo punto in ciascuna catenella delle 5 1 2 3 4 5 poi abbiamo la sequenza dei 18 punti e lavoreremo un mezzo punto in ciascuno quando arriviamo alle prossime catenelle continuiamo sempre allo stesso modo finché non terminiamo anche questa sesta riga procederemo in questo modo per altre tre righe a mezzo punto in costa per un totale di 9 righe insieme alle prime fatte insieme per cui procediamo e ci vediamo a fascia terminata ultimo mezzo punto catenella di sicurezza stacco un po di filato questo sarà il risultato dopo aver completato le nuove righe a mezzo punto in costa la fascia misurerà 52 cm per un'altezza di 9 cm ovviamente andremo a nascondere i fili in eccesso tra le maglie dopo aver realizzato la prima fascia ne realizzeremo una seconda è fondamentale potete utilizzare sia lo stesso colore o due colori proprio come ho fatto io per dare un effetto più tridimensionale bene abbiamo le due fasce esattamente una accanto all'altra qui abbiamo la sezione dei 9 mezzi punti esattamente come da quest'altra parte mentre qui la sezione dei 18 e dei 18 vi ricordate no dobbiamo capovolgere una fascia delle due esattamente in questo modo quindi avremo da un lato 9 mezzi punti qui 18 mezzi punti qui quindi i due buchetti si devono alternare in questo modo poi abbiamo i 9 mezzi punti da una parte contro 18 dell'altra parte sistemate le due fasce in questo modo è molto importante ne prendiamo una e la mettiamo sopra l'altra poi partiamo esattamente dall'estremità che ho alla mia destra pieghiamo in questo modo la fascia in basso e la facciamo passare attraverso il primo foro esattamente in questo modo quindi spingiamo tiriamo fuori e facciamo coincidere le due estremità esattamente in questo modo se volete fare questo passaggio in maniera più comoda basta bloccare le due estremità con una mollettina prendiamo la fascia in alto pieghiamo in due esattamente in questo modo e facciamo passare il tutto attraverso il secondo foro tiriamo 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 ok e ci fermiamo non appena le due estremità coincidono e sistemiamo per bene in questo modo è davvero semplicissimo ripetiamo la stessa operazione quindi prendiamo la fascia al di sopra pieghiamo in due e facciamo passare il tutto attraverso il foro successivo il terzo quindi nel mio caso la colorazione più chiara passa al di sotto e viceversa avrò questo gioco di colori ok mi fermo non appena raggiungo l'altra estremità pian pianino possiamo sistemare per bene prendo la fascia sopra piego e ripeto questa sequenza finché non faccio passare le fasce attraverso tutti i fori ripeto 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 guardate che bellissimo effetto e poi ripeto per l'ultima volta perché ho l'ultimo foro sulla fascia in basso e voilà quindi facciamo coincidere anche le due estremità adesso ci occorrerà un elastico io questo grande ma anche questo piccolino utilizzerò l'elastico più piccolo e lo andremo a fissare direttamente tra le due fasce è davvero semplicissimo facciamo passare attraverso l'elastico una delle due estremità proprio in questo modo poi prendiamo lo stesso filato di lavorazione un ago ed entriamo tra i punti a zig zag ma al mano che faccio questo procedimento tiro anche un po di filato e ripeto la stessa operazione sull'altra fascia entro a zig zag senza fare troppi calcoli senza essere troppo precisi non è necessario perché poi vedrete che nemmeno la cucitura si vedrà tiriamo per bene i due fili stringiamo la lavorazione e chiudiamo possiamo fare due tre nodi io ne farò tre giusto per essere sicura che non si disfa nulla e poi nascondo l'eccesso tra le maglie possibilmente nella fascia della stessa tonalità e voilà questo qui è il risultato adesso il progetto è pronto per essere indossato amiche ed amici rieccoci qui siamo giunti al termine anche di questo video tutorial è stato brevissimo l'avete visto il progetto è super facile e veloce come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate grazie per l'attenzione grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia vi do l'appuntamento alla prossima settimana ormai un bacino a tutti